300 milioni di euro, questa la cifra che il Ministero dei Beni Culturali ha deciso di investire per sostenere il patrimonio culturale italiano. A renderlo noto il ministro Franceschini che ha firmato il programma triennale 2016-2018 del Fondo per la tutela del patrimonio. Un investimento importante, ha dichiarato Franceschini, che conferma quanto la cultura sia tornata al centro della politica nazionale. I soldi messi a disposizione serviranno a coprire 241 interventi in tutta Italia, divisi per ogni regione, e che si sommano ai 360 milioni di euro del PON Cultura, già destinati ad alcune zone del sud. Il Molise è stato inserito in questo programma e riceverà quasi 1 milione 800 mila euro, una cifra che sarà impiegata per realizzare 5 interventi in altrettanti ambiti culturali. Come lo stesso ministro ha sottolineato, non c'è settore che non stia ricevendo un impulso significativo, dall'arte all'archeologia, dalle biblioteche agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro. Insomma, un'operazione a 360 gradi che tiene conto, come sottolineato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali, delle esigenze e delle segnalazioni arrivate dai singoli territori. Ma ecco, punto per punto, come saranno distribuiti i fondi in Molise. 350 mila euro andranno a Palazzo Iapoce di Campobasso, oggi sede della soprintendenza, per verificarne la stabilità in caso di terremoti e per la prevenzione degli incendi. 500 mila euro saranno invece impiegati per il recupero dei casali fatiscenti che si trovano nei pressi dell'area archeologica di Altile e Assepino, con particolare attenzione a quelli costruiti fra il XVIII e il XIX secolo, che saranno ristrutturati utilizzando il materiale di spoglio dei monumenti antichi. La stessa cifra servirà ad abbattere le barriere architettoniche dei musei molisani, ma anche ad adeguarne i sistemi espositivi. L'operazione riguarderà Palazzo Pistille, Museo Sannitico di Campobasso, il Museo del Paleolitico di Isernia, Museo archeologico e Castello Pandone di Venafro, il Castello di Gambatesa e l'Abbazia di Castel San Vincenzo. Sempre per gli stessi musei a cui si aggiunge il Castello di Civita Campomarano, saranno spesi altri 350 mila euro per l'adeguamento alle norme per la sicurezza sul lavoro. Infine, 17 mila euro serviranno a restaurare i documenti dei registri di Stato civile a Isernia.